Gloria a Dio. Fratelli, finché siete in piedi, se aprite le vostre Bibbie, nel libro della Genesi, Genesi, capitolo 19, leggerò del verso 12. Quegli uomini dissero a Lot, chi hai ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figli, figlie e chiunque dei tuoi è in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore e il Signore ci ha mandati a distruggerlo. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e disse, alzatevi, uscite da questo luogo perché il Signore sta per distruggere la città. Ma i suoi generi parve che volesse scherzare. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot, dicendo, alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli induggiava e quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare. Lo portarono via e lo misero fuori della città. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse, metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Lot rispose loro, no, mio Signore, ecco il tuo servo ha trovato grazie ai tuoi occhi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me, conservandomi in vita. Ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia. Ecco, c'è questa città vicina per rifugiarmi, è piccola e lascia che io fugga lì. E non è forse piccola? E così io vivrò. E quello rispose, ecco, anche questa grazia io ti concedo di non distruggere la città della quale hai parlato. Affrettati, rifugiatila, perché io non posso fare nulla finché tu non vi sia giunto. Perciò quella città fu chiamata Soar. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, fuoco e zolfo da parte del Signore. Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Abramo si alzò la mattina presto e andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore, guardò verso Sodoma e Gomorra e verso tutta la regione della pianura. Fu così che Dio si ricordò da Abramo quando egli distrusse le città della pianura e fece scampare Lot al disastro mentre distruggeva le città dove Lot aveva abitato. Lot salì da Soar per andare a abitare sul monte insieme con le sue due figlie perché temeva di stare in Soar e si stabilì in una caverna, egli con le sue due figlie. Signore parla ai nostri cuori, Signore, dacci un cuore attento, dacci una vita che voglia essere modellata e plasmata dalla Tua parola, Signore. Grazie nel nome di Gesù, amè, gloria a Dio. Accomodatevi, fratelli. Inizio questo pensiero, questa riflessione con una domanda che magari in questo tempo può sembrare un po' banale. E la domanda che farà il primo titolo di questo messaggio, perché ne avrà due titoli, una domanda e un imperativo. e questa domanda è dove porti la tua famiglia? E magari in questo tempo, chissà quante volte, ci siamo sentiti rivolgere questa domanda. Dove porti quest'estate la tua famiglia? Dove le porti in vacanza? Dove le porti? E ovviamente questa domanda è il preludio di qualcosa di ben più profondo di un periodo di vacanza. E di molto più importante per noi e per le nostre famiglie. Sapete, questo pensiero che vi trasmetto oggi mi è venuto in cuore ieri, quando siamo andati a passeggiare in montagna con alcune famiglie. E una mamma mi ha detto che la figlia, appena siamo arrivati, una ragazzina, e ha visto le altre famiglie nel parcheggio e i genitori con i figli, con i ragazzi ha detto mamma che bello che le famiglie possano essere insieme così. E quando questa frase di questa ragazzina mi è rimasta in testa tutta la giornata e pensavo di ringraziare dentro il mio cuore il Signore per la possibilità che abbiamo di portare la nostra famiglia in luoghi sani ma soprattutto assieme a persone sane in compagnia sane è una possibilità che abbiamo a me che altri nel mondo non hanno o magari non hanno chiara come ce l'abbiamo noi. e mentre facevo questi pensieri pensavo proprio alla figura di Lot Gesù usa l'esperienza di Lot come avvertimento per coloro che vivono negli ultimi tempi e per andare in cerca sapete adesso abbiamo tutti la chiave biblica digitale per andare in cerca dei passi del Vangelo di Luca capitolo 17 dove Gesù dice ricordatevi cioè scusate similmente nei giorni di Lot si mangiava si beveva finché Dio fece uscire Lot da Sodoma e poi distrusse completamente come abbiamo letto queste città e Gesù dice che similmente a quei giorni di Lot avverrà negli ultimi giorni e dice due saranno in un letto uno sarà preso e uno sarà lasciato è terribile che purtroppo è accaduto anche a Lot purtroppo è accaduto anche a Lot un uomo che malgrado le sue peripezie e i suoi errori è rimasto fedele al Signore fino alla fine però è accaduto anche a Lot il fatto di vedere che qualcuno del suo letto della sua famiglia non fu trovato pronto per essere per essere salvato dal Signore dicevo stamattina digitavo per cercare il passo di Luca digitavo i tempi di Lot ho messo questa frase tempi di Lot e veniva fuori niente com'è possibile dopo ho messo sono andato a vedere alla vecchia maniera perché non erano i tempi di Lot erano i giorni di Lot dice Gesù e ho pensato a una cosa sapete fratelli in questo errore digitale ho pensato a una cosa la direzione che diamo alla nostra famiglia dove stiamo portando la nostra famiglia avviene piano piano giorno dopo giorno non ci sono dei tempi epocali in cui magari facciamo un balzo spirituale noi e la nostra famiglia e riusciamo a portarli già al traguardo ma la direzione che stiamo dando alla nostra famiglia viene costruita piano piano giorno giorno dopo giorno passo dopo passo con le nostre piccole scelte di tutti i giorni amè è il risultato di questi piccoli passi amè allora ritorno alla domanda che ci fa da prima parte del titolo dove porti la tua famiglia dove la stai portando giorno dopo giorno l'esortazione che Dio rivolse all'hot che abbiamo letto è questa cerca scampo sul monte amè Dio diede un'indicazione all'hot la direzione il luogo la destinazione per la salvezza sua ma anche della sua famiglia amè cerca scampo sul monte altrimenti perirai amè c'è una direzione che Dio dà all'hot cerca scampo sul monte e in questa direzione era una direzione comprensiva di tutta la sua famiglia amè come ho detto prima questa direzione viene presa anche per lotte sapete è il risultato di tante scelte lontane da quel momento lontane dal capitolo 19 della Genesi tante scelte fatte nel corso della sua vita amè e così noi dobbiamo arrivare a quel luogo sicuro non con un balzo formidabile ma con i piccoli passi fatti giorno dopo giorno quando Abramo diversi anni prima uscì dal suo paese chiamato dal Signore c'è scritto nella parola di Dio lot andò con lui amè letteralmente c'è scritto lot andò con lui cioè lot fece una scelta in quel momento chissà forse Abramo avrà condiviso Dio mi ha parlato avrà espresso manifestato condiviso in famiglia quello che Dio gli aveva detto e c'è scritto nella parola di Dio che lot andò con lui amè dopo più avanti dopo qualche tempo qualche anno dove il Signore aveva benedetto sia Abramo e sia lot i suoi beni i loro greggi nel capitolo 13 della Genesi c'è scritto che lot poi si divise da Abramo amè prima andò con lui poi si divise proprio in questi giorni un giovane che è qui a cui non ho fatto tempo di rispondere con un messaggio mi ha chiesto pastore ma quando lot e Abramo si divisero fu per preservare l'integrità del loro rapporto beh allora ti rispondo in diretta dal pulpo perché dobbiamo pensare a come avvenne quella divisione quella separazione e al seguito che ci fu da quella separazione amè perché delle volte la vita stessa ci porta a prendere strade diverse anche il Signore concede che possiamo prendere delle strade diverse però la parola di Dio ci mette in evidenza come avvenne quella separazione e il seguito che ci fu guardate innanzitutto come avvenne quella divisione Abramo pur avendone il diritto se vi ricordate lascia scegliere suo nipote lot era il figlio del fratello di Abramo la terra in cui stavano ed erano benedetti era la terra promessa a Dio ad Abramo Lot non c'entra a me Lot non dimostrò l'umiltà di dire Abramo tu devi scegliere per prima tu devi scegliere è vero c'era un bisogno che anche Abramo evidenzia erano così benedetti che serviva più territorio per i loro pascoli per le loro greci ma Lot non manifestò un sentimento di umiltà e di rispetto e di riconoscenza verso Abramo che l'aveva portato in quel paese dove stava ricevendo tante benedizioni poi c'è scritto che Abramo non vi leggo tutti i passi però sono passi conosciutissimi Abramo aspettò la guida di Dio per scegliere dove andare Abramo rimase fermo e a un certo momento Dio gli parlò e gli disse alza ora gli occhi e guarda quel paese là quello è tuo io ti benedirò lì in quel paese a te a te e alla tua discendenza a me Abramo rimase fermo e aspettò la guida del Signore mentre invece c'è scritto che Lot guardò verso la pianura verso la parte più verde più lussureggiante del paese oh era bellissima dice la scrittura che era fertile come il giardino dell'Eden era un luogo rigoglioso fertile Lot si fece attirare dai suoi occhi Abramo aspettò la guida del Signore Lot camminò secondo i suoi desideri e purtroppo c'è scritto che portò la sua famiglia a vivere fino a Sodoma amè Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra essa era tutta irrigata fino a Soar come il giardino del Signore come il paese d'Egitto Lot la scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente così si separarono alleluia Lot dice abitò nella città della pianura nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore guardate in queste poche parole ci sono tutti i passi i sentimenti che animarono Lot guarda questo è il posto migliore neanche si permise di dire Abramo vuoi sceglierlo tu no questo è il posto migliore lo scelgo io a me e i passi andò piantando le sue tende una cosa graduale portò la sua famiglia a Sodoma e sapeva bene perché se è scritto così significa che era riconosciuto in quel tempo in quei luoghi che gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore però evidentemente era un luogo ricco il commercio abbondava le sue i suoi beni potevano fruttare abbondantemente con le ricchezze che offriva Sodoma pensate Abramo cosa succede dopo Alexi dopo questa separazione avete capito che mi ha fatto la domanda cosa succede questo è al momento della separazione ma dopo la separazione cosa succede c'è un passo Alexi tre anni di scuola biblica c'è un passo della Bibbia che ci dice che Lot dopo la separazione si è interessato ad Abramo e c'è qualche passo della Bibbia che ci dice che dopo la separazione Abramo si è interessato a Lot lasciate rispondere lui che lo devo sennò li tolgo via il diploma della scuola biblica ci sono dei passi o no almeno tre ti do un aiuto almeno tre che lo sappiamo in maniera chiara poi ti aiuto io tre volte la Bibbia ci dice che Abramo si interessò a Lot dopo la separazione dopo poco che Lot e la sua famiglia abitarono a Sodoma dei re nemici si allearono e fecero guerra contro Sodoma vinsero uccisero i re di Sodoma degli altri città e presero prigionieri tutto il popolo la Bibbia ci dice che anche Lot la sua famiglia e tutti i suoi beni furono fatti prigionieri da questi re nemici la parola di Dio ci dice che qualcuno che era riuscito a scappare andò ad avvisare Abramo e Abramo disse vabbè ha fatto le sue scelte adesso paga le conseguenze no Abramo radunò i suoi uomini rincorse quei re con l'aiuto del Signore li combattè li sconfisse e liberò tutti in particolare Lot e la sua famiglia amè poi seconda volta prima del passo che abbiamo letto di Genesi 19 il figlio di Dio con due angeli fanno visita ad Abramo e lo avvisano che Dio aveva stabilito la distruzione completa di tutta la vallata Abramo quando i due angeli si incamminarono che sono quelli che arrivarono da Lot il figlio di Dio l'angelo dell'Eterno rimase davanti rimase da Abramo e Abramo supplicò il Signore lo supplicò Signore salva Signore e cominciò vi ricordate quella preghiera lunga se ci sono 50 giusti Signore tu distruggerai lo stesso e arrivò fino a un giusto scusate fino a 10 giusti a 10 giusti continuò a supplicare il Signore perché il suo peso era per Lot per la sua famiglia amè la sua preghiera la sua supplica Abramo si interessò a Lot anche dopo la separazione e nel verso che abbiamo letto qui vi ricordate cosa abbiamo letto il verso 27 che nel giorno che fu distrutta Lot scusate Sodoma Gomorra e tutte le città della pianura Abramo si alzò la mattina presto e andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore e guardò verso Sodoma e Gomorra perché guardò lì perché aveva un peso nel suo cuore per Lot suo nipote e per la sua famiglia amè e quindi ci sono modi e modi di separarci e nelle separazioni che possono essere in qualche momento separazioni di attività di cose che possono essere in qualche momento necessario c'è modo e modo di portarla avanti amè c'è chi continua a nutrire amore affetto preghiera e chi cammina in maniera egoistica Signore aiutaci a me alleluia alleluia mi verrebbe da dire forse con quel penso che fosse stato un forte avvertimento che Dio diede a Lot quando permise a quei re nemici di di vincere i re di Sodoma Gomorra e portarlo schiavo io credo che forse se Lot fosse stato più in comunione con Dio avrebbe capito che Dio gli stava dicendo ma non ti rendi conto dove sei andato ma non ti rendi conto che con le tue scelte hai portato la tua famiglia vicino al peccato sei caduto in prigionia stai vivendo nella sconfitta e sei prossimo alla rovina se Lot avesse capito l'avvertimento e la grazia di Dio mandando Abramo mandando Abramo a liberare sapete Abramo non era un guerriero i suoi uomini erano dei pastori non erano dei guerrieri ma con l'aiuto di Dio vinse degli eserciti sconfisse degli eserciti per liberare suo nipote Lot e la sua famiglia un avvertimento forte che forse qualcuno deve fare suo quali sono i passi che direzione sta andando sto portando sto portando la mia famiglia perché l'avvertimento l'esortazione del Signore non solo a Lot ma a tutti noi è cercare scampo sul monte quante volte gli angeli in quella notte dissero a Lot porta la tua famiglia sul monte quante volte ripeterono questa esortazione prima chiesero chi hai ancora qui fai uscire da questo luogo generi figli figlie chiunque dei tuoi è in questa città guardate l'amore di Dio fratelli a me l'amore di Dio mi è sempre affascinato quella preghiera di Abramo davanti al figlio di Dio Signore ma se ci sono 50 giusti 40 giusti 30 20 10 giusti e lì Abramo si ferma ma Dio porta via un giusto perché la Bibbia ci parla che c'era il giusto Lot dentro quella città Alleluia perché l'amore di Dio va al di là di quello che noi anche delle nostre preghiere anche dei pesi che noi abbiamo Dio ama di più di quello che noi amiamo Alleluia anche i nostri cari quante volte chi hai dei tuoi e allarga l'amore del Signore generi generi figli e figlie chiunque dei tuoi in quella salvezza c'era spazio per chiunque dei suoi di Lot e poi al verso 15 quando l'alba cominciò ad apparire gli angeli sollecitarono Lot dicendo alzati prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui perché tu non perisca nel castigo di questa città Lot aveva fatto passare del tempo quella notte era quasi trascorsa e non so se avete visto la salvezza si era ristretta gli angeli qui non dicono più generi genere chiunque dei tuoi la porta si era ristretta fratelli e sorelle facciamo attenzione a non far passare del tempo un passo della scrittura dice come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza una salvezza una porta spalancata in un tempo della nostra vita però fratelli sorelle voglio parlare in particolare ai papà e ai mariti fratelli che avete voi la responsabilità davanti a Dio della vostra famiglia con le vostre scelte e con i giorni che passano con i passi e la direzione che date e imprimete alla vostra famiglia forse quella porta si sta restringendo fate attenzione facciamo attenzione facciamo attenzione fratelli alleluia e poi al verso 17 addirittura gli angeli portano via per mano Lot la moglie e le due figlie e dopo averli fatti uscire uno di questi uomini disse metti la tua vita al sicuro non guardare indietro non ti fermare in alcun luogo della pianura cerca scampo sul monte altrimenti perirai pensate fratelli che perfino nella sua obbedienza Lot non arrivò al monte subito anche questo è un passo che mi sconvolge tutta una notte che questi angeli continuano a insistere e lotte che indugia e rimane fermo e quando alla fine gli dicono guarda è imminente vai sul monte no ma forse non riusciamo ad arrivarci risparmia una piccola città Soar che fu chiamata così perché significa piccola risparmia quel piccolo villaggio quella piccola città andiamo lì non riusciremo ad arrivare sul monte però guardate l'angelo al verso 22 dice a Lot affrettati rifugiatila perché io non posso fare nulla finché tu non vi sia giunto Lot la mano di Dio il fuoco dal cielo sarebbe stato trattenuto se tu volevi salire sul monte con la tua famiglia e forse sul monte tua moglie non si sarebbe voltata indietro se fossi arrivato se fossi arrivato lì forse tua moglie non si sarebbe voltata indietro perché l'angelo disse io non posso fare nulla non posso distruggere questa pianura finché tu non sia in salvo aveva tutto il tempo però fratelli questa parola ci porta un avvertimento non aspettiamo che sia troppo tardi per qualcuno dei nostri cari dirigiamo i nostri passi per condurre la nostra famiglia sulla vetta del monte dove Dio ci ha indicato sapete la Bibbia parla di tanti monti e di tante volte che Dio indica dei monti c'è il monte dell'ubbidienza quando Dio dice ad Abramo ti mostro quel monte là tu mi devi offrire in sacrificio tuo figlio il tuo unico e Abramo alla fine poi disse chiamò quel luogo quel monte Iavegire perché è il monte del Signore sarà provveduto fratelli ma Dio non provvede alla disubbidienza dobbiamo salire sul monte dell'ubbidienza alla volontà di Dio Signore aiutaci c'è il monte della fede e mi veniva in mente Caleb quell'uomo quel nonno di 80 anni che dice ma io sono forte di più di quelli che hanno 20 anni e il Signore 40 anni fa mi aveva mi aveva promesso quel monte dammi quel monte disse disse a Giosuè e Caleb coi suoi 80 anni sconfisse gli anachiti i giganti che abitavano su quel monte gloria al nome del Signore il monte della fede dobbiamo portare le nostre famiglie sul monte della fede non sulla valle dello scoraggiamento davanti alla prima difficoltà esortiamo le nostre famiglie diamo loro l'esempio che anche nelle difficoltà che incontriamo noi vogliamo salire sul monte della fede il monte della santità diversi passi in particolare il salmo 24 il salmo 15 chi salirà al monte del Signore l'uomo innocente di mani e puro di cuore che non eleva l'animo a vanità che dice la verità così come ce l'ha nel cuore alleluia fratelli e sorelle genitori i nostri figli devono vedere che almeno i loro genitori salgono sul monte della santità c'è tante vedono tante cose in giro purtroppo in questi tempi anche nella Chiesa verità parziali che non vengono dette completamente fino in fondo sentimenti non positivi azioni sbagliate per il proprio tornaconto mancanza di separazione dal mondo questo monte è difficile da scalare e più avanti che andremo sempre più sarà difficile scalare però se dobbiamo mettere sicuro la nostra famiglia dobbiamo condurla sul monte della santità perché senza la santificazione nessuno e anche la nostra famiglia vedrà il Signore di Fatilot perse tutto perse tutto perse tutta la sua famiglia le due figlie sopravvissute commisero un atto abbietto un incesto che diede vita diede nascita a due popoli che divennero nemici del popolo di Israele Signore aiutaci perché perché Abramo non portò la sua famiglia sul monte della Lot non portò la sua famiglia sul monte della santità i nostri figli ci diranno ma fratello ma mamma papà ma gli altri fanno così e noi dobbiamo tornare a rispondere ma tu non guardare quello che fanno gli altri la Bibbia cosa dice a me viviamo un tempo dove ormai eh ma gli altri poi la finestra di oggi è aperta sul mondo intero coi cellulari coi internet coi facebook coi social coi tutto quanto tutto è una finestra aperta sia per vedere che per essere guardati dal mondo intero eh ma altri che si dicono credenti fanno così si comportano così vanno di là fanno colà altri pastori permettono altri genitori permettono fratelli e sorelle cari genitori se volete delegare al pastore anche al prossimo che verrà più giovane con più forza siete già sconfitti in partenza perché se il pastore insegna dal pulpit e voi smontate da casa i vostri figli non li porterete mai sopra il monte sul monte della santità amè e dobbiamo chiedere aiuto al Signore che veramente torni veramente a mettere nel nostro cuore quel sentimento santità santificazione vuol dire separazione lotte portando la sua famiglia passo passo fino a Sodoma ha fatto sì che sua moglie si innamorasse delle cose di Sodoma ha fatto sì che le sue figlie sposassero dei generi increduli che non avevano timore degli avvertimenti di Dio ha fatto sì che le sue figlie acquisissero la mentalità perversa di Sodoma se dobbiamo dare una discendenza ai nostri figli a nostro padre non importa come facciamolo queste sono le persone del mondo qualcuno nella Bibbia rispose a una persona perversa questo non si fa in Israele e noi dovremmo tornare a dirlo ma non solo dal pulpito fratelli dobbiamo tornarlo a dirlo nelle nostre famiglie e genitori questo non si fa in una famiglia di credenti e finché non hai l'età per fare le tue scelte tu non lo fai perché sei sotto la mia responsabilità e la mia tutela e sotto il tetto della mia casa poi quando farai le tue scelte te ne prenderai le conseguenze ma dobbiamo tornare fratelli non aspettando le grandi cose ma anche dalle piccole cose guardate dalle piccole cose piccoli sentimenti piccoli atteggiamenti piccoli comportamenti piccoli modi di vestire anche se non si dice più ormai facciamo attenzione diciamolo ancora nelle nostre famiglie ai nostri figli e alle nostre figli amè la Bibbia dice ancora così non è cambiata le cose non sono cambiate siamo noi che stiamo cambiando forse siamo noi che abbiamo cambiato la direzione dove stai portando la tua famiglia dove stai permettendo alla tua famiglia di dirigersi signore aiutaci alleluia al monte della preghiera dobbiamo portare la nostra famiglia sapete perché questo è perché alcuni della nostra famiglia a un certo momento finché sono ragazzini ce li trasciniamo con le buone o con le meno buone sai Lorenzo con le buone o con le meno buone ok ma a un certo punto questi ragazzini cresceranno vorranno fare le loro scelte noi preghiamo di no però in mezzo a loro qualcuno farà delle scelte diverse e allora qualche genitore si sentirà sconfitto fallito come faccio a portare il signore la mia famiglia sul monte portala sul monte della preghiera a me anche quelli che non vogliono venire con te portali ogni giorno in preghiera sul monte sul monte della preghiera a me e attendiamo fiduciosi la misericordia del nostro Dio a me e infine fratelli la Bibbia ci dice che c'è il monte umanamente un piccolo colle niente di che spiritualmente il monte straordinario porta la tua famiglia al monte della croce chiediamo signore grazie aiutaci a portare la nostra famiglia ai piedi della croce ci alziamo i piedi grazie 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 grazie